Il Consiglio regionale ha fatto un bilancio del suo primo anno di attività, un lavoro intenso nel periodo difficile della pandemia che è stato illustrato dal presidente Antonio Mazzeo, dai vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci e dai presidenti di commissione durante una conferenza stampa in cui è stato presentato anche il nuovo portale di comunicazione digitale al servizio dei cittadini in consiglio.it. Nei primi 12 mesi di lavori della nuova legislatura sono state 54 le sedute dell'Assemblea regionale dal mese di ottobre del 2020 all'ottobre del 2021 con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96%. Tra gli atti trattati 72 le proposte di legge, 46 sono state votate e approvate. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di presidenza, i capi gruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme un senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo, fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, di rilanciare cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione, attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. Da ora ci sarà un nuovo sito, in consiglio.it, in cui sarà possibile seguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Consentitemi di ringraziare i presidenti delle commissioni. Non era facile lavorare a distanza, come vedrete dai numeri hanno prodotto un lavoro enorme e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Noi come ufficio di presidenza abbiamo provato, lì dove la giunta non ce la faceva, anche a sostenere, penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge, anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo quest'idea su cui stiamo lavorando di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. È una sfida complicata, ma sono certo che con l'impegno di tutti i colleghi e di tutte le colleghe saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono. Un bilancio di un anno importante va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consigliari che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo, un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia. Nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra Giunta regionale, iniziative legislative, credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distingo dei ruoli. Quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti, penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione, l'importanza e il sostegno al nostro Presidente e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli interlegislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di Presidenza ho spiegato trovando una sensibilità per altro comune è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. Questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, ecco di ritorno un po' alla normalità quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto per rendere sempre più trasparente, aperta, ecco diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati di quelle nostre attività, che ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La Costituzione Repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più il lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni e questo è fondamentale proprio perché tutto si deve svolgere secondo quello che è la nostra tradizione repubblicana e democratica. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana presieduta da Marco Nicolai per attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. La fiscalità di vantaggio consiste nell'insieme delle disposizioni tributarie studiate per fornire incentivi a particolari aree geografiche di uno Stato o a settori sociali e imprenditoriali per favorirne lo sviluppo. La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo per fare in modo che siano inserite specifiche agevolazioni fiscali per le aree interne, insulari e i comuni di montagna con l'obiettivo di combattere fenomeni di spopolamento e favorire l'insediamento di imprese. Noi abbiamo chiesto come Commissione e lo abbiamo fatto all'unanimità su mia proposta ieri e oggi approvata in Consiglio regionale che all'interno della riforma del fisco del nostro Paese il Governo introduca fiscalità di vantaggio per le aree interne e montane. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare il Governo assieme alle altre regioni però ora è arrivato il momento e è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi ma i servizi si garantiscono solo se c'è non spopolamento ma se c'è presenza delle persone su un territorio e quindi creare le condizioni anche dal punto di vista fiscale per sostenere le attività produttive noi ci dicono non solo gli esperti ma anche gli amministratori locali è essenziale. Da oggi inizia la battaglia della Toscana per chiedere in sede nazionale di introdurre questo principio che c'è in alcune regioni a statuto speciale ad esempio insomma Sicilia e altre regioni del nord Italia deve essere esteso anche alle regioni a statuto ordinario del nostro paese. In Commissione Aree Interne i Fratelli d'Italia hanno lavorato a modificare questo testo che chiede in sostanza al Governo e al Parlamento di prevedere una fiscalità di vantaggio per le nostre aree interne che come sapete non sono poche. Noi ci siamo però accontentati di un testo generico, l'ennesimo testo generico perché l'impegno che chiediamo è chiaramente anche quello di Regione Toscana nei confronti diretti delle aree interne. Di fatto la fiscalità è un punto essenziale per questo la proposta di risoluzione arriva all'unanimità in Consiglio ma Fratelli d'Italia nel prossimo seduto presenterà diciamo lo specifico su cui bisogna lavorare quindi recupero del patrimonio edilizio, la mobilità e la sanità cioè quei servizi sulle quali è indispensabile poter sigillare non lo spopolamento delle aree montane ma risorgere delle loro comunità. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio nel senso che queste attività devono pagare meno rispetto a quelle che si trovano nelle altre zone della Toscana perché i toscani devono essere tutti in serie A. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre diciamo hanno le aree interne ma non solo, anche alle isole hanno. La commissione aree interne proprio cerca di mettere il focus su questo come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la commissione costa perché si può dire che la Toscana è ovunque bella, un slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione ma devono essere messi in condizione di farlo. Questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura, una strada mancante o disagevole oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale anche ad esempio per la pediatria che scoraggia spesso molte famiglie ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra ma anche molte altre, Pitigliano, San Marcello, Pistoiese, proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B e questo vale per tutti. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo, quindi bene il lavoro fatto dalla commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non di quelle collegate alle città ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità, quindi siamo a favore di questa misura. Il Consiglio regionale ha inaugurato un ufficio decentrato nella Palazzina Reale, al Parco di San Rossore. Alla cerimonia di inaugurazione della sede decentrata hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il segretario dell'ufficio di presidenza Diego Petrucci, il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente dell'ente Parco Lorenzo Bani. I nuovi uffici in una struttura che è già nella disponibilità della regione non comporteranno aumento di costi per i cittadini, ha specificato Mazzeo, che ha spiegato che la scelta di fondo è quella di dare più servizi ed essere più vicini ai cittadini. Avvicinare le istituzioni ai cittadini era uno degli impegni che ci siamo presi all'inizio di questa legislatura e oggi, aprendo questo luogo di incontro, questo spazio di ascolto, non è uno spazio di ascolto del presidente del Consiglio regionale, ma è uno spazio di ascolto di tutti i consiglieri regionali. Il nostro obiettivo è guardare le persone negli occhi e cercare di dare quelle risposte, specialmente in un tempo post-pandemico che i cittadini, le associazioni, le imprese, le categorie economiche ci propongono. È qualcosa di importante e di altamente innovativo. Lo facciamo oggi a Pisa, lo faremo negli altri territori della Toscana, perché l'obiettivo è sempre più quello di fare al Consiglio regionale un luogo aperto che arrivi in quella che abbiamo chiamato la Toscana diffusa, dovunque dia quelle risposte che i cittadini da tempo aspettano dalla politica. Le ultime elezioni ci hanno dato un ulteriore messaggio della disaffezione dei cittadini dalla politica. Noi invece dobbiamo far conoscere il lavoro che facciamo, i temi della sanità, dell'ambiente, dell'innovazione e lo facciamo in uno dei luoghi più belli della Toscana, nel parco di San Rossore. Questo è un luogo delle opportunità, un luogo che può diventare davvero esperimento per le imprese, per i soggetti che vogliono investire sulla sostenibilità. Il futuro del nostro Paese passa attraverso la sostenibilità, il futuro della Toscana passa attraverso la capacità di saper leggere in anticipo il futuro ed è quello che vogliamo fare qui a San Rossore. Diciamo che il forte astensionismo è un dato oggettivo rispetto al quale la politica e le istituzioni si devono confrontare, quindi avvicinare le istituzioni ai cittadini, ai territori è comunque un dovere in questo momento più che in altri momenti storici. Il fatto di aprire questo ufficio della regione toscana qua a Pisa dentro il parco di San Rossore va in questa direzione, inoltre come ho sottolineato e voglio sottolineare anche in questa occasione a far capire che la regione non è soltanto Firenze, troppo spesso anche giustamente si è pensato che la regione toscana fosse una questione fiorentina o dell'area metropolitana fiorentina, no, la regione è comunque un'istituzione di tutti, di tutti i territori e quindi è giusto che ci sia anche una rappresentanza forte nel territorio di Pisa che merita un tipo di attenzione di questo genere. Presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, l'Atlante Digitale dei Sentieri d'Europa, che consente, attraverso un'app, di percorrere informati la rete dei cammini. Si tratta di un progetto pilota che vede protagonista la Federazione Italiana Escursionismo, impegnata il 23 e 24 ottobre prossimi nel suo secondo congresso. Sono davvero contento di poter ospitare qui questa importante conferenza stampa che si muove esattamente nella linea che abbiamo tracciato in questa legislatura, in Consiglio regionale. Cercare sempre più di fare di questo luogo, un luogo aperto, un luogo d'ascolto, un luogo di valorizzazione di tutti i cambiamenti che attraverso le nuove tecnologie, e qui presentiamo quelli che sono i sentieri digitali attraverso una app che permettano ai cittadini di poter conoscere meglio il nostro territorio, di poterlo vivere in maniera moderna, di poter costruire le condizioni perché ognuno si senta sempre più a casa sua nella nostra Toscana. Un grazie davvero agli organizzatori, un grazie alla collega, alla Presidente Bugetti per aver voluto portare qui nelle sale del Consiglio regionale questo momento, è davvero che sia la strada, a proposito dei sentieri, giusta da perseguire. Io ne sono convinto e farò di tutto perché nei prossimi anni la Toscana, il Consiglio regionale diventino sempre più un luogo in cui l'innovazione e la tradizione si possano legare insieme. Questa è la strada e abbiamo tracciato, questa è la strada che perseguiremo con forza nei prossimi mesi. Siamo onorati di presentare nella sede del Palazzo del Consiglio regionale il congresso del FIE, degli escursionisti, che si aprirà in questa giornata importantissima, in un momento che viene dopo il lockdown, la pandemia, in un momento in cui la stessa regione ha provato anche durante il lockdown a dare una possibilità agli escursionisti a poter ampliare il loro raggio di passeggiate. Per noi è importantissimo perché specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto c'è stato un recupero, un ritorno, un'attenzione alle nostre montagne, ai nostri percorsi e anche alla rete escursionistica europea di cui parlereanno in questo congresso. Per noi vuol dire sviluppo economico, vuol dire PIL, vuol dire turismo, ma vuol dire anche salute. Quindi è un tema che coniuga tanti aspetti e soprattutto tante associazioni in rete che esistono da tantissimi anni e che fanno quell'azione sociale che ci permette di far scoprire le nostre bellezze. Quindi è sicuramente un motore turistico ma è anche qualcosa che parla di benessere e che parla di un recupero di una parte della nostra Toscana che spesso è nascosta e quindi loro ci aiutano proprio a scoprire le bellezze della nostra regione. L'iniziativa del congresso è una necessità perché i tempi sono cambiati rispetto agli anni della fondazione, della federazione, per cui c'è stata un'evoluzione, un'evoluzione di carattere sociale che ha fatto ritenere alla dirigenza della nostra federazione di doversi misurare con i tempi, quindi quale opportunità migliore è quella di raccogliere l'opinione totale della nostra base, per cui dai documenti che sono stati gli atti preparatori del congresso e da cui poi verrà fuori una decisione programmatica per gli anni a venire c'è tutta la motivazione per cui il congresso è stato organizzato. Per noi è un grande onore ospitare qui a Firenze il congresso nazionale che è il secondo dopo il primo che ha segnato la rifondazione. È un momento dopo la pandemia di rinnovamento, cioè sono stati fatti dei tavoli che hanno lavorato per un anno e mezzo e che stanno definendo quello che sarà il programma per i prossimi cinque anni della federazione italiana escursionismo. È un po' come un'azienda che fa il business plan per il futuro e periodicamente verifica dove siamo arrivati e altro. In Toscana il movimento è molto forte, abbiamo 37 associazioni e pensiamo con alcune discipline tipo la marcia acquatica e altro coinvolgere tutte quelle associazioni di volontariato che hanno a che fare con il mare, circoli nautici eccetera. Speriamo bene.